Infante Calzature e Pelletterie Grazie a tutti Onorevole, se mi consente partirei subito dalla notizia del momento che sta riguardando un po' tutti i sindaci del territorio a sud di Salerno. Parliamo dei fondi dell'accelerazione di spesa. Qualche giorno fa presso l'Enteparco si è svolto un incontro tra i primi cittadini. Temono per questi fondi per l'opposizione presentata dal sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. Che cosa può dirci in merito? Sono realmente a rischio questi finanziamenti o no? Intanto buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Credo che i finanziamenti dell'accelerazione della spesa sono una risorsa importante per il territorio. Dopo 3-4 anni di grande crisi economica, siamo riusciti a risanare un debito enorme per quanto riguarda la sanità, ma tutti gli aspetti. Siamo riusciti a rientrare nel patto di stabilità, il Presidente Caldoro è riuscito ad avere credibilità a livello europeo e anche presso il governo. E finalmente abbiamo sbloccato questi fondi. È una cosa fondamentale, importante, rappresenta il 3-4% del PIL regionale. Abbiamo da qui, entro questo anno, la regione finanziata circa 4-5 miliardi di euro, cioè una cifra importantissima e che vede protagonista il territorio, cioè i comuni. È stata fatta una scelta di decentramento, e si parla tanto di decentramento, di delegare i comuni, di finanziare i comuni, far sì che i comuni siano ente attuatori e l'accelerazione della spesa va proprio in quella direzione, cioè accelerare la spesa in un momento di crisi, in modo tale non solo si realizzano opere importanti per i singoli territori, ma che danno sicuramente un momento forte di occupazione e di rilancio, un momento di crisi dove c'è il lavoro, il problema fondamentale è proprio il lavoro. Ci sono imprese bloccate, professionali bloccate, quindi quando i soldi pubblici si mettono in moto, si mettono in moto tutta l'economia. Quindi lo spirito è stato proprio quello. Quindi le indattuatori comuni, la regione ha soltanto programmato proprio la filosofia della nascita delle regioni, non vuole gestire, ma demanda gli enti locali che stanno vicino ai territori, vicino ai cittadini, e abbiamo il Presidente Caldoro, una linea democratica, la prima volta nella storia, dove si dà comunque a tutti, senza guardare il colore politico, è la prima volta. Io ho fatto il sindaco quando governavo il centro-sinistra, quando ha distrutto la regione campata, l'ha indebitata, nemmeno i nostri pronipoti riusciranno a pagare i debiti, perché pagavano i debiti con altri debiti. Quindi veramente è una cosa scellerata e oggi paghiamo le conseguenze. Quindi da oggi a domani se un'azienda fallisce non è che la vai a recuperare. Quindi a tutti abbiamo dato, il Presidente Caldoro ha dato la possibilità al singolo comune di scegliere la priorità, con la speranza che il proprio progetto di priorità, e quindi tutti i primi progetti sono stati messi a finanziamento. Già lunedì, per quanto riguarda la provincia di Salerno, il dirigente Cargiulo dell'area, proprio per questi fondi, incontrerà tutti i sindaci e i responsabili per dare le direttive affinché si accelere chiaramente per il rilascio del decreto e affinché i sindaci possano subito, velocemente, in modo tale i sindaci possano fare subito la gara e nel frattempo che preparano la gara arriverà il decreto della regione, i soldi ci sono e quindi finalmente da qui a 90-120 giorni massimo se i comuni hanno fatto veramente quello che hanno dichiarato, è vero, quindi i progetti sono esecutivi e si accelerano anche i comuni nella procedura, io credo che fra 90-100 giorni massimo possono iniziare questi tanti cantieri e quindi si rilancia l'economia di questo territorio. Ma la novità non solo sulla democrazia di dare tutto a tutto un momento di crisi, quindi è una grande novità, ma soprattutto un'attenzione particolare per l'area interna e per i piccoli comuni come il Cilento, Vallidiano, Alburni, come nel Avellinese e nel Beneventano, perché si dà ai comuni a prescindere il numero di abitanti. Guarda, facendo un calcolo sommario, probabilmente tra il Cilento, il Vallidiano, il Golfo di Policasti e gli Alburni arriveranno su circa 1 miliardo e mezzo, 2 miliardi, circa 300-400 milioni, c'è una somma ingente rispetto al numero di abitanti. Questa è stata una grande vittoria del territorio. Io un po' di mio ci ho messo perché ho la fortuna di essere stato delegato al Presidente Caldoro per i piccoli comuni, per la programmazione e coesione territoriale nell'area interna dei piccoli comuni che sono il 65% della Regione Campania, nella provincia di Salerno su 158 ne sono 106 la maggioranza, quindi questa è stata una grande scommessa, una grande vincita dei territori interni perché la Regione, come dice il Presidente Caldoro, deve investire, deve diventare la Regione verde, quindi il nostro territorio è il territorio verde, è il territorio del Parco Nazionale del Cilento, le piccole realtà sono risorse fondamentali e quindi finalmente otteniamo, per la prima volta nella storia della Regione Campania, una somma ingente che è sproporzionata rispetto agli abitanti e quindi finalmente l'area interna vengono rispettata. La cosa gravissima è che a tutto questo il sindaco di Salerno cerca di ostacolare questo percorso, come se la provincia di Salerno fosse formata soltanto nella città di Salerno. Voglio ribadire, l'ho detto espressamente anche tramite i mezzi di comunicazione, tramite i giornali, e l'ho detto anche a Napoli, De Luca rappresenta l'8% della popolazione Salerno, l'8% dell'intera provincia di Salerno, perché la provincia di Salerno è circa un milione e due, Salerno è 130-140 mila abitanti, quindi lui non si può ergere da paladino, come se Salerno i soldi per la provincia di Salerno devono essere destinati soltanto per Salerno. Questa è una scorrettezza non solo per i sindaci e gli altri 157 sindaci, ma è una scorrettezza soprattutto per i cittadini della provincia di Salerno. Lui è giusto che chiede finanziamenti come ha fatto nel passato per Salerno, ma non è possibile pensare che uno che dice che si vuole si è candidato a livello regionale, è stato votato da tutti i cittadini della provincia di Salerno e vuole uccidere queste piccole realtà che cercano di sopravvivere al momento di grande crisi e soprattutto al decremento della popolazione che avvertiamo in questo territorio. E quindi è stata una scelta scellerata, secondo me è stata una scelta non ragionata, probabilmente... Lui dice che non è stato compreso bene il suo intervento. No, no, De Luca si comprende bene, grida perché era abituato che prima, quando c'era Bassolino Valiante, la regione Campania, quando ha visto la profonda crisi della regione Campania, quando l'abbiamo indebitata per dieci anni, De Luca gridava contro Napoli Centrismo per ottenere qualcosa per sé e guarda caso, otteneva soltanto per Salerno. Adesso è finito il Napoli Centrismo e finalmente si guarda la regione come una grande regione dove c'è uno sviluppo organico e veramente dispiace perché i soldi vengono dati non solo ai siti di centrodestra ma a tutti i sindi, quindi la maggioranza dei siti sono anche di centrosinistra. Quindi io credo che De Luca dovrebbe chiedere scusa non solo a tutti i sindi, ma soprattutto a tutti i cittadini della regione Campania che poi l'hanno votato il 40%, quindi è strano che uno che si vuole candidare a livello regionale come governatore fa un ricorso contro i comuni fino a 50 mila abitanti che sono circa 3 milioni di abitanti, quindi va contro gli interessi di 3 milioni di abitanti. Io penso che non può essere un leader. Forse è successo un momento particolare della sua vita che è stato trombato politicamente dallo stesso partito perché da vice ministro adesso non è nessuno, quindi da Roma l'hanno mandato via perché nella vita se uno è bravo deve essere bravo non solo in casa ma anche fuori casa. Quindi si è visto che in otto mesi ha fatto il vice ministro senza delega e poi l'hanno completamente bocciato quando lui poi il suo schieramento era renziano. Quindi Roma, il suo partito l'ha bocciato. Forse questa bocciatura l'ha fatto andare fuori da un ragionamento logico. Io credo che questa la pagherà cara perché i cittadini, io spero che il suo ricorso non sommo concretamente, spero che non produrrà nulla come effetto negativo perché altrimenti sarebbe un danno enorme ai cittadini dell'intera regione campagna. Ma io sono fiducioso. Oltre a questo, questa è veramente una grande rivoluzione. Ci saranno altri bandi successivamente dopo questo. Ci sono circa altri un miliardo di euro sui territori. È uscito pure pochi giorni fa per quanto riguarda i finanziamenti dei porti, la portualità su tutta la posta. Quindi al di là dell'accelerazione di spesa possiamo parlare di altri finanziamenti che arriveranno dalla regione. Assolutamente sì. Per l'efficientamento energetico è uscito il bando. Sono usciti i bandi per quanto riguarda si sta completando il grande progetto per gli impianti di depurazione fatto dalla regione campagna. Circa 100 milioni. Quindi si stanno attivando per avere i pareri, le autorizzazioni per iniziare la procedura. Per i porti, la zona del Cilento, da Agropoli fino a Sapri, avrà per i porti, per l'adeguamento e miglioramento dei porti esistenti circa 30-40 milioni. Quindi finalmente dopo tre anni e mezzo di grande rilancio, risanamento, perché noi siamo costretti a risanare i debiti, rilanciamo e quindi io voglio finalmente fare un appello ai cittadini che un altro po' bisogna resistere, ma io sono convinto che da qui a questo anno, durante questi prossimi anni, sicuramente questa crisi profonda che sta investendo tutti i settori, soprattutto le persone più bisognose, gli operai e i lavoratori, io credo con questi grandi risorsi importanti e si può rilanciare l'economia. Però voglio fare un appello a tutti i sindaci. Io mi auguro che i progetti chiesti come priorità siano progetti che veramente servono, perché nel passato... Si riferisce all'accelerazione di spesa. L'accelerazione, ma su tutte le progettualità. Manca un appello ai privati, perché io ci saranno anche finanziamenti per i prati, sia per quanto riguarda il comparto dell'agricoltura, ma ci sono anche una notizia importante, ci sono per l'area interna circa 500 milioni che il governo tramite Bruxelles dato alla regione Campania, speriamo che Del Rio non modifica questi importi, e vedrà protagonista le aree interne, cioè Benevento, Avellino e la parte sud di Salerno. È il settore dove di mia competenza, sicuramente su quest'area arriveranno almeno 150 milioni di euro. Anche per i privati? Il mio indirizzo, il mio suggerimento che farò al Presidente Caldoro, non solo di dare aiuto agli enti pubblici, perché è importante assolutamente creare un'infrastruttura se serve una decomento di una scuola, di una strada e così via, però sediamo solo al pubblico. Quando c'è un problema di occupazione, cioè se un paese sistema la piazza e nella piazza non ci va nessuno, perché il paese non ci resta nessuno perché è morto, perché sono emigrati tutti i giovani, non ha senza. Allora, io dico, il 50% è destinato per l'attività privata, per le piccole attività, non grandi investimenti perché arriva il potentato di turno, si preleva i soldi, dopo 5 anni chiude tutto e finisce tutto. E quindi dare al massimo fino a 100.000 euro ai giovani per le attività disoccupate, per riqualificare i borghi antichi, in modo da provare le aree interne, attività artigianale, fabbro, falegnameria, locanda, ristorante, professionalità. Quello che serve al territorio. Quello che serve puntualmente al territorio in modo tale diamo la possibilità, facendo un conto stretto stretto, possiamo mettere in gioco circa 5-6.000 aziende, che almeno ogni azienda può dare 2-3 posti di lavoro, quindi circa 15.000 posti di lavoro. Se dovessero fallire il 50%, ma ne restano 7-8.000, altrimenti se diamo tutti 2-3 grandi finanziamenti, come è successo del passato, dopo 5 anni chiudono e quindi perdiamo tutto. Quindi, contro-tendenza, però un appello che si fa, chiaramente non solo all'amministrazione, ma alla gente tutta, di impegnarsi di ritornare a senso civico, perché se un territorio muore colpa un po' di tutti, non solo del politico di turno, ma sicuramente delle professionità che operano in quella situazione, perché il paese è di tutti, non è soltanto del sindaco. Quindi un appello a tutti, in tutti i settori, di ritornare a lavorare per il bene comune, di lavorare seriamente con la consapevolezza che i soldi che c'erano una volta, il benessere che c'erano una volta, non c'è più. Quindi bisogna rilanciare con grandi sacrifici, ma ce la possiamo fare. Quindi è una stagione positiva, arriveranno i soldi, con l'ospedizione che questi soldi vengono spesi bene, sia dal pubblico che dal privato. Allora, iniziamo a dare un'occhiata anche ai quotidiani di oggi, perché ci sono molti spunti anche per far intervenire l'onorevole Fortunato. Allora, bus, parliamo qui di trasporti, fine corsa, sì, alla cassa integrazione, per 120, dunque ricapitalizzazione Ocra, che è il giorno della verità per il CSTP, cassa in deroga per altre nuove aziende. Poi la frana Salerno-Cava, da sabato si paga il CIP, per accordo Avellino, uno scippo da 100 milioni. Poi test università, crollano le iscrizioni a Medicina, il festival ha presentato il Festival di Ravello, il sud protagonista del festival, in programma dal 21 giugno al 20 settembre. Oltre 50 gli appuntamenti in cartellone. Poi la cronaca con il caso che arriva da Mercatello, dunque torna la speranza, Giuseppina si risveglia e lotta contro la morte. C'è l'inchiesta, citarella in carcere, violati i domiciliari, il turismo scommessa a crociere, check-in a Miami. Allora, in primo piano anche l'emergenza Fran, le prima chiedeva ai cittadini, ecco, devono avere pazienza ancora per un po', però ai cittadini di questo territorio, onorevole, da più di un anno si chiede davvero tanta pazienza. Mi riferisco al problema viabilità che incompe su questo territorio. C'è la Cirentana chiusa, la Mingardina ogni tanto necessita di qualche intervento, quindi viene chiusa al traffico, per non parlare poi delle tante strade secondarie, però principali per molte comunità, che naturalmente restano chiuse per problemi di frane. che cosa si può fare, chi deve intervenire, perché tanti mesi, ecco, qual è il problema reale? Dalla Regione, se non sbaglio, è arrivato un sostanzioso finanziamento proprio per la Cirentana, però ancora bisogna aspettare. Intanto, facciamo un distinto, allora la Cirentana è un problema serio che va affrontato seriamente e per risolverlo definitivamente. Intanto è un'arteria che non può gestire la provincia di Salerno, l'ente provincia, anche perché le province con l'antipolitica, il governo di fatto l'ha chiuse, perché senza risorse, io faccio un appena, quindi le province non esistono più di fatto, perché un ente senza economia non esiste. Quindi non è capace né... L'assessore Piero non può fare i miracoli in questo momento. No, non può fare proprio nulla, cioè noi spostiamo il ragionamento, se no perdiamo tempo. È come se io chiedo a te lavoro quando tu non hai lavoro, non hai nemmeno lavoro per te. Eh, perdo tempo, no? Allora, intanto è un'arteria principale, parlo da tecchio, da ingegnere, non può essere gestita da un ente provincia, sia perché non ha il personale, non ha le economie e non ha le competenze. Quello è un'arteria importante, un errore è stato fatto a monte, dove essere gestita assolutamente dallo Stato, dall'ANAS e dallo Stato, perché è un'arteria di penetrazione ad alta velocità. E quindi assolutamente ho fatto già io una nota al Ministro Lupi e anche per conoscenza al Presidente Iannone della provincia dicendo lasciamo tutto, perché se voi non siete in grado, non è colpa vostra, ma non siete in grado di dare una risposta, perché non avete le economie. Allora, date tutto allo Stato, è inutile insiste la competenza della provincia. Di fatto, noi dobbiamo spostare la competenza all'ANAS, è un'arteria principale, è una strada molto pericolosa, va fatto un progetto di ammodernamento, di riqualificazione, quindi ci vorranno almeno 100 milioni. Quella è una strada fondamentale per il Parco Nazionale Cilente, è una strada che viene percorso durante l'estate da migliaia e migliaia e migliaia di persone e non è possibile in quello Stato, non solo per le frane, ma è una strada altamente pericolosa per la velocità di progetto. Quella è stata pensata negli anni 70, quando le macchine andavano a 70 all'ora. Oggi non è così, è una vergogna, ancora insistiamo a dire che quello deve essere gestito dalla provincia. L'errore è stato fatto a mondo, quando probabilmente chi gestiva la provincia pensava che gestendo la strada e gestiva il potere politico, cioè l'errore è a mondo. Oggi paghiamo il disastro, l'incapacità, la mediocrità dei politici che hanno governato questo territorio e la provincia di Salerno. Quindi, poi, ci sono i soldi che la regione, perché la provincia non ha soldi, e quindi è meglio che li chiudiamo immediatamente, perché non servono più. Non esistono le province, di fatto. Io l'ho difesa, però visto che l'antipolitica ha voluto questo, visto che approfittando dell'antipolitica chi comanda la manzioneria internazionale, la finanza, vuole concentrare tutto il potere a poche persone, prendiamo atto di questo, allora affrontiamo la realtà. La realtà è che le province non esistono, diamo tutto allo Stato, il Ministro dell'Infrastruttura e il Governo, prima letto, oggi Renzi, devono intervenire per dare sicurezza a questa. Allora, la regione ha fatto la sua parte, ha preso una somma ingente, per anche la viabilità tutto del Cilento. Io, personalmente, sono la situazione delle drammatiche. Io sono consigliere provinciale, consigliere regionale, la mia strada, Santa Marina-Policastro, sono nove mesi, è franata e ancora non è possibile. Se non avessi realizzato, quando ero sindaco, una strada di collegamento alternativa, comunale, il mio paese era isolato. È una vergogna, di fatto è una vergogna. Ci siamo impegnati, abbiamo dato 28 milioni, tra cui 500-600 mila, per la strada provinciale di Santa Marina-Policastro, però purtroppo l'Italia, se non si fanno le riforme essenziali, cioè se non si eliminano questi enti nutri, questa burocrazia che uccide, perché oggi, da quando la Regione ha dato i soldi, a quando iniziano i lavori, per la procedura di car, hanno inventato per la legalità la trasparenza che devono essere fatte con la stazione appaltante, quindi più confusione, di tutto e di più. Quindi dal momento in cui ci sono i soldi, passano 7, 8, 9 mesi, e intanto la gente rischia di morire, perché sono state pericolose, e intanto il sistema va in cortocircuito. L'Italia, se non si eliminano, è inutili, come, per esempio, allora, immaginiamo la nostra zona, uno deve fare un progetto di ristrutturazione di una casa, deve andare prima a parere comunale, del TEC, poi i beni ambientali e la commissione del paesaggio, poi deve avere il parere del parco, quindi integrazione, poi deve andare la sovrintendenza, poi l'autorità di Bacini, e così via, non se ne può più. Questi enti distruggono e bloccano l'economia e il rilancio, questi enti inutili, chiudiamoli, il personale, impieghiamoli a fare cose utili, allora, il modello deve essere snello, allora, le province non esistono, comune, regione, è stato, chiuso. Come era una volta. Sì, perché il problema è che le leggi non sono chiare, scritte malissime, spesso da Cepini, di turno, scrivono le leggi, e lasciamo interpretazione al funzionario di turno. Arriva un funzionario, io voglio la casa, la struttura rossa, va bene, la faccio rossa, nel frattempo, questo si sposta, arriva l'altro, no, la voglio blu, e i cittadini devono fare questo, cioè non è possibile, quindi sono enti che non serve, e poi assistiamo che crollano, opere d'arte monumentale, solo come veli e muri, e le sovrintendenze, si preoccupano a bloccare la finestra del contadino di turno, o di chi deve ristrutturare la casa, quindi chiede integrazione, poi il parco chiede integrazione, il parco approva quello boccia, quello approva, cioè questa è la confusione, perché oggi la politica non comanda, e vi dico che è la verità, perché il popolo con l'antipolia ha delegittimato se stesso, perché è una cosa dire che Giovanni Fortunato non è un politico buono e va bocciato con il consenso, non lo dobbiamo votare, è una cosa, mette in discussione il ruolo, il ruolo di Giovanni Fortunato, il ruolo del popolo, che viene eletto dal popolo, in questa confusione i funzionari di turno, i dirigenti di turno di questi enti la fanno da padrone, decidono tutto loro, è un colpo di Stato, noi stiamo in mano ai funzionari di turno, provinciale, regionale, comunale, sovrintendenze, parche e così via, quindi come il parco, il parco doveva essere una grande speranza, una grande opportunità per il Cilento, Validiana, Alburno e Golfo di Policassa, ma è stato soltanto un vingolo, ahimè, è servito soltanto ai presidenti di turno, ai dirigenti di turno, di girare il mondo, con i soldi dei cittadini, che ha portato? Cosa ha portato? Poi paradossalmente no, sviluppiamo il turismo, il turismo balneare si sviluppa da sé, la costa cilentana, il Golfo di Policassa, viaggia da sé, il problema sono le aree interne, cosa abbiamo assistito? Che da quando è nato il parco, tutte le aree interne i paesi sono morti, quindi qual è il risultato? Un sacco di soldi buttati, rifugi che nemmeno i cignali ci vanno, strade, percorsi, sentire che nemmeno i cignali ci vanno, allora vogliamo essere seri, allora secondo me, questo parco, questi endi, consorzio di bonifica, consorzio di rifiuti, consorzio online, questo è, c'è questa confusione, perché il politico di turno trompato, veniva collocato in queste posizioni, quindi è arrivato il momento, di dire basta, una struttura snella, il cittadino in due o tre passaggi deve sapere se una cosa si può fare o non si può fare, e l'ambiente, lo tuteliamo noi cittadini, se nel Cilento l'ambiente è rimasto intatto, perché ognuno di noi, che ha deciso di viverci, non di nare, perché ci nasce una cosa, di coincidenza fortuita, ma chi ha deciso di viverci, di morire, è una scelta coraggiosa di noi cilentani, del golfo, di questo territorio a sud di Salerno, e se oggi è intatto il territorio, perché noi siamo le sentinelle, non è pensabile che un funzionario che sta salendo nella città, nel palazzo a Napoli, decide le sorti di questo territorio, può decidere il bello che noi dobbiamo vivere, loro vivono in città, fanno i signorotti, e noi ci impongono la nostra vita nel nostro territorio con i nostri sacrifici, non è possibile, è impensabile, è una vergogna, quindi una struttura snella, io spero che Renzi faccia, anche se politicamente non sono con lui, ma faccio, visto che ha fatto qualcosa di questo tipo, se non si fa questo, Abolire quindi gli enti inutili, chiuderli? Tutti, 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 perché sono enti non solo inutili, ma che bloccano, cioè il neutro, se si fa una somma algebrica, zero è l'elemento neutro, quindi non mette e non toglie niente, il problema è che loro tolgono, non è che sono tutti, sono enti dannosi, anzi dobbiamo cambiare la tecnologia, dire enti inutili, significa innocuo, ibrido, è zero nella somma, c'è l'elemento neutro, no, sono dannosi, perché bloccano, si sovrappongono, queste funzionare, che prima, dicono che la politica, tra parenti sappiamo come è funzionato nel passato, la maggior parte non funziona, perché la maggior parte venivano raccomandate, no, venivano raccomandate dal politico di turno, e guarda caso, una volta che si trovano dall'altra parte della scrivania, bloccano tutti, perché si devono sentire potenti, decido io la sorte di quel territorio, quindi se hai la sfortuna di trovare una persona, che è deviata mentalmente, per una visione culturale, ambientale, di un personale, tu sei costretto a morire, a far morire quelle realtà, quindi, io faccio un appello ai cittadini, di collaborare con l'istituzione, ma di graditare contro questi enti inutili, e chi deve lavorare, dobbiamo salvaguardare il lavoro, ma far fare lavori bene, quindi le sovrintendenze, soprattutto nella Lavia Parca, non ha senso avere due pareri, allora, impegniamole per i beni archeologici, impegniamole per vele, impegniamole per i muri, che aggono male a Policasso, monumenti artisti, culturali, di inestimabile, diciamo, valore, che vanno tutelati, queste zone, vengono abbandonate, nessuno li controlla, guarda caso, si controlla la tettoio del contadino, del fabbricato rurale, questo è, allora, perché pensano che questa zona a sud, ve lo dico con amarezza, pensano che è una zona da riservare, come se noi fossimo indigeni, come se fosse una specie generale di estinzioni, dobbiamo conservare quelli indigeni, cioè, questo è, è la verità, è come se uno ha più proprietà, è una proprietà che ci va a fare solo il picnic, una volta all'anno, dice, quella ragazzo deve stare intatta, perché io faccio il signorotto a Napoli, a Roma, a Milano, e una volta all'anno, una settimana, mi devo divertire nella selvo scura, questo è, allora, veramente, faccio un appello ai sindaci, di farsi rispettare, perché non è possibile che questi endi inutili bloccano tutti, o è una cosa bloccano una lottizzazione, una speculazione, e guarda caso, forse quella non la bloccano, ma un intervento di un cittadino, che vuole ristrutturare una casa, e si vede, per ristrutturare una propria abitazione, per adeguare le esigenze familiari, si è costretta ad aspettare 5-6 anni, se va bene, e poi con ricorsi eventualmente a tar, pagando avvocati e così via, non se ne può più, io credo che è arrivato il momento, di un senso di umiltà da parte di tutti, un appello che faccio anche ai funzionari, fino a quando non si chiudono questi endi, di un senso di umiltà, di partecipare, di senso civico, di rapportarsi con le istituzioni, con i cittadini, perché io credo che se fallisce l'Italia, falliamo tutti quanti. Intanto però per il parco è un momento particolare, perché c'è attesa, deve essere rinnovato un po' tutto, il consiglio direttivo, c'è un nuovo presidente che deve essere nominato, quindi è un momento sicuramente particolare. Sì, io se dipendesse da me lo chiuderei il parco, eviteremmo spese dal costo del presidente, del direttore, di funzionari, salvaguarderei soltanto i dipendenti, farei fare la manutenzione del territorio, il risanamento ambientale come le comunità montane, la bonifica, la manutenzione del territorio, la riqualificazione del territorio, risparmiamo edifici, potremmo vendere, luce, telefono, macchine, girare il mondo, io se giro, giro con i soldi miei, quindi ognuno deve girare con i propri sacrifici, il parco oramai non ha senso, deve essere un bene immateriale, solo come nome, oramai gira, quindi il parco siamo noi, c'è questi enti, e i sindi si devono spostare, dagli Alburne per Vallo, per fare l'Unione, dal Golfo di Puglione, perdono benzina, inguiniamo l'aria, e ci sono anche gettoni di presenza, e litigi, perché vuoi far litigare le piccole realtà, mettili insieme, crea un ente insieme, guerra tra i paesi, cioè non è possibile, quindi il parco deve diventare un bene immateriale, solo il parco deve diventare un bene immateriale, allora destiniamo 100 mila euro all'anno, per la pubblicità, per la comunicazione, noi diamo i mezzi di comunicazione locale e nazionale, e il parco va da sé, questi soldi che si impegnano per i dirigenti, consulenze e così via, sono soldi sprecati, che si tolgono ai cittadini, ai lavoratori, questo è, quindi, ora ci sarà una guerra, chi deve fare il presidente, il presidente, ahimè, in un momento di crisi, non potrà fare nulla, non farà nulla, sarà un altro presidente, che girerà il mondo con i soldi nostri, questo è, questa è la verità, dopodiché, uno, può dire piace, cioè l'ambiente è una cosa, il parco è fallito, chiudiamolo, chiudiamolo, il parco è servito a vingolare, al povero condadino di ristrutturare la propria casa, non ha dato lavoro a nessuno, io sfido di fare un bilancio, quanti soldi sono arrivati dalla regione comunitaria europea, e dallo Stato al parco, e quando occupazione ha creato, io penso milioni e milioni e milioni di euro, cioè se quei soldi li destinavamo solo all'occupazione, avremmo impiegato forse 10 mila persone, non avremmo il problema occupazione, e questa è la verità, cosa ha portato? Lo sviluppo costiere va da sé, lo sviluppo interno sono chiusi, gli albuni, tutti i paesi interi sono chiusi, sono morti, quindi il risultato è negativo, non è un ente nute, è stato un ente dannoso, quindi chiudiamolo. Allora, la pagina interna del mattino, dedicata al Cilento Vallo di Diano, c'è la notizia di cronaca giudiziaria, dunque Clinica Cobelli, se ne sono in favore dai vertici, Asle, processo dunque archiviato, anche l'accusa aveva chiesto il proscioglimento, si è chiuso quindi con una sentenza di archiviazione, per non luogo a procedere, il processo per presunte irregolarità, e indebiti vantaggi economici, che vedeva imputati, sia dirigenti dell'ex Asle Salerno 3, che gli amministratori, della Clinica Cobellis di Vallo della Lucania. Poi l'emergenza rifiuti, con il caso che arriva da Polla, con i lavoratori dell'Ergono, dunque fumata grigia, sabato c'è la fiaccolata. Onorevole, due problematiche, sanità, quindi con rapporto tra pubblico e privato, e i tanti lavoratori addetti alla raccolta rifiuti, perché parliamo in questo caso dell'Ergono, ma anche nel Cilento, ci sono oltre 300 operai, se non di più, che da tempo non percepiscono con regolarità lo stipendio, se facciamo un'indagine, chi avanza 9, 10, 15, anche mensilità, insomma, due argomenti sicuramente caldi, sanità, emergenza rifiuti e problema laboratori. Iniziamo dal problema dei rifiuti degli operai, il problema, io credo che va tutelato l'operaio, io sono sempre per l'operaio, e quando ho amministrato, ma anche nella vita privata, ho cercato sempre di aiutare, perché vengo una famiglia di operai, operai però mio padre chi sudava, io da piccolo aiutavo, sudavo, non operai che guardano, e si fanno raccomandare a non lavorare, i veri operai, e ce ne sono tanti, è la maggioranza, questa è la verità, però l'ho affrontato seriamente, perché forse sono stati impiegati, assunti operai che in quel settore non servivano, quindi dobbiamo ottimizzare, c'è un accesso assolutamente, ma dobbiamo ottimizzare, ma non è colpa dell'operario, di chi ha gestito quell'apparato, che è un altro end inutile, questi consoli sono stati altri end inutili, quindi chi ha gestito, ha gestito male, quindi io credo che bisogna fare una riforma a 360 gradi, così pure gli operai idraulici forestali delle comunità montane, però guarda che sono uno dei pochi in regione che ha chiesto la chiusura delle comunità montane, e assolutamente salvagorare il livello occupazio degli operai e dei dipendenti. La maggior parte, la maggioranza, senza guardare il colore politico, ovviamente la sinistra perché l'ha creata, quindi sicuramente l'ultimo, ma anche nel corrente di centro-destra, ci sono molti, quelli che vogliono sostenere questi enti, perché hanno il Presidente amico di turno, allora se tu mantieni queste ente come utile montane, luce, telefono, manutenzione, apparati, tutto quanto, in giro del 30-40%, un momento di crisi, tu li devi tagliare, allora siccome gli operai lavorano sui territori, diamo la gestione ai sindaci, diamo la gestione ai comuni, perché già hanno l'edificio e la luce comunque è pagata, hanno i tecchi già pagati, ingegnere capo della comunità montane, per controllare il vallone, per fare la montazione del canale, ma la vogliamo finire o no? Allora, o si ha il coraggio drasticamente di chiudere, o di tagliare questi rami secchi, se no saranno destinati a perdere le persone più devine, che sono gli operai. per quanto riguarda i rifiuti, il rifiuto è una grande ricchezza, la raccolta va fatta, la gestione va fatta, quindi teoricamente i cittadini pagano un sacco di soldi, non si spiega come mai, i cittadini pagano un sacco di soldi per la tarsu, per la monnezza, per la raccolta e i rifiuti, e lo smaltimento, e gli operai, questi endi, non pagano gli operai, i conti non tornano. È stata una gestione fallimentare. Allora, io ho fatto una lotta in Regione Campania, ci sono riuscito, perché volevano concentrare tutto a Salerno, per la gestione futura dei rifiuti, io ho gridato con forza, ho vinto la battaglia con un ammendamento a firma mia, che abbiamo dato l'autonomia ai singoli comuni. Perché tu non mi puoi costringere a stare insieme all'altro comune, se io sono virtuoso, se l'altro non è virtuoso, se io sono costretto, io devo pagare i danni al tuo, in modo tale si deve sapere chi è responsabile. Quando individualmente è responsabile l'amministrazione locale, se non si fa la raccolta, è responsabile il sindaco, e quindi i cittadini sanno con chi prendono, non è con Ergon, con Aielo, e qui l'Aielo noi c'è il commissario, il commissario c'è la provincia, la provincia c'è la gioca, è la confusione, vogliamo chiarezza, siccome questi vertici, queste parate, è come se uno oramai è ammalato, il sistema è ammalato, non si può curare, allora l'unica cosa, ci sono i consorti, poi ci sono le società, bisogna chiuderli, perché qualsiasi persona che va a gestire, siccome il sistema è così confusionale, oramai è intasato, è difficile, qualsiasi persona, quindi l'unico rimedio è chiuderli, salviamo gli operari con una pianificazione, con un progetto serio, diamo ai cittadini, i cittadini devono pagare, è giusto che devono pagare, ma i cittadini devono sapere chi sbaglia, chi è responsabile di quella gestione negativa, quindi se diamo la responsabilità ai singoli amministrazioni comuni, i cittadini se a vallo non funziona, sanno con chi prendersela, se non funziona a Santa Maria, e così via, se no questi enti servono per scaricare le responsabilità, viceversa cosa dicono i grandi scienziati della politica mediocre, che hanno ucciso l'Italia e la regione campana della provincia di Sede, no dobbiamo stare insieme, perché insieme si costruisce bene, si costruisce bene, no, quando tu vuoi stare insieme è una scelta, nella vita, la vita democratica, io posso stare insieme, facciamo un ragionamento, io, è una cosa dire, mi devo sposare, o mi devo fidanzare, questo ti vogliono pubblicare, pure con chi ti devi sposare, con chi ti devi fidanzare, e questa è una dittatura, è la scusa, vi prendono in giro, vi prendono in giro, quindi responsabilità ai singoli comuni, e che bravo fa funzionare, perché i cittadini pagano, e se i cittadini di quel paese sono più virtuosi, più educati, è giusto che pagano di meno, non è possibile che se mi metti con Salerno, o mi metti con Nocera, o mi metti con Napoli, io sono costretto eventualmente a pagare, anche le cose negative di quella comunità, le comunità vanno rispettate con l'autonomia, quindi io credo che la sfida del prossimo futuro è questa, struttura burocratica, snella, responsabilità certe, e chi viene bocciato dal popolo, deve tornare a fare il proprio dovere, il proprio lavoro se ce l'ha, se è un professionista, se è un ingegnere, fa l'ingegnere, se è un medico, fa il medico, se non sa fare l'ingegnere, va a zappare, c'è tanto terreno, a grade su tutto il territorio, quindi basta con questi che vogliono lavorare senza lavorare, anzi vogliono ingassare senza essere qualcuno o saper fare nulla, quindi è arrivato il momento che ognuno deve fare quello che sa fare. Andiamo avanti e ci avviamo a chiudere, allora uno sguardo alla prima pagina della città, Giuseppina esce dal coma e salva per la sanità. La sanità, io credo, e lancio una sfida, un'altra sfida, la sanità, sappiamo tutti com'è andata la crisi, lo sprecolo, finalmente abbiamo risanato, la cosa critica e vergognosa, che ho fatto anche una lettera al Ministro Lorenzino, che noi paradossalmente, la Regione Campania, dopo il risanamento, abbiamo l'opportunità di assumere medici, infermieri e ausiliari, amministrativi, chiaramente fa funzionare, perché un ospedale funziona se ha il personale, una struttura funziona se ha il personale, non il personale in esubero, ma il minimo indispensabile, perché se io non do personale significa... In questi giorni c'è il caso di colla, io declasso indirettamente, i cittadini non si rivolgono a quella struttura, quindi la faccio fallire, e a questo punto le strutture private fanno il loro gioco, giustamente, le strutture private, gestite dai privati, stanno attenti, sono più attenti e quindi riescono a avere più utili. Io credo che il governo, perché forse pensavo che il Presidente Caldonio non riuscisse a fare, perché lui è il commissario straordinario, questo risanamento, è un anno che abbiamo i soldi, paghiamo lo straordinario un medico che lavora a San Leonardo per esempio, poi fa le sue otto ore, poi la sera va a Sapri, quindi dopo otto ore, il trasporto è, sono già 10-11 ore, devi fare altre otto ore, può lavorare 20 ore un medico, che deve avere una prestazione curale, quindi va a dormire paradossalmente, quindi quanto ci costa? 720 euro, quando se noi assumessimo un nuovo medico, ci costa allo Stato 250, non regge il gioco, va bene anche a loro, perché sono stessi i medici che lavorano, che sono già dipendenti pubblici, che fanno questo gioco, non gridano lo scandalo, non voglio l'Alpi, perché loro non si rifiutano, perché se tutti si rifiutassero, a fare lo straordinario 720 euro a notte, perché fa comodo a tutti, questa è la verità, io credo che il governo dovrebbe prendere una decisione, perché non potrebbe lasciare i presidi ospedalieri, senza i medici, allora, se veramente loro ci tengono la struttura dove lavorano, i medici pubblici, non quelli privati, allora si devono rifiutare a fare straordinari, ma nessuno si rifiuta, sono 720 euro a notte, quindi è strano che noi potessimo, la gioco può indire un bando, per potenziare le strutture, per medici di circa, e paramedici, ausiliare per circa 2000 persone, quindi non solo diamo efficienza alla sanità, evitiamo emigrazione fuori regione, fuori provincia, ma daremo anche un momento occupazionale, tanti nostri concittadini, medici, infermieri, che sono emigrate fuori regione, potrebbero ritornare, quindi dare ricchezza al territorio, noi ancora c'è il blocco del turnore, quindi intanto questo è un problema, poi per quanto riguarda la sanità a sud di Salerno, è un problema serio, io credo, verificandola, è stato un grande errore, fare una sola AS nella provincia di Salerno, tre forse erano troppo, ma ci vuole almeno un'altra AS. Secondo me, io sto facendo la settimana prossima, l'ho quasi approntata, e lo renderò pubblico ovviamente, la proposta di legge di istituire nella provincia di Salerno due AS, AS Salerno Nord e AS Salerno Sud, AS Salerno Sud, da Eboli a Sal, avremo una popolazione di circa 350 mila abitanti, avremo un territorio che è il doppio dell'altra parte, no, cinque volte tanto, un territorio più grande del Beneventano, con una popolazione più grande dell'AS di Benevento, con gli stessi soldi, senza sprechi, noi dobbiamo essere autonomi, perché una gestione di un'azienda come l'AS, o di un settore come la sanità, è importante per la vita di ognuno di noi, perché deve curare la salute dei cittadini, e quindi quando uno sta ammalato è il momento più critico e individuale di ognuno di noi, quindi è un momento di delicatezze, e quindi un paese civile si vede proprio quando la sanità funziona. Noi non possiamo, la provincia di Salerno ha tanti problemi, per esempio il direttore generale, una bravissima persona, lo conosco, amico di me, eppure è uno scienziato, pur se fosse uno scienziato, se io sono medico e devo fare 100 visita al giorno, non ce la posso fare, se sono il più bravo ingegnere, devo fare 10 progetti al giorno, non ce la faccio, quindi lui non ce la può fare, noi non possiamo aspettare, è un momento di grande crisi, di organizzazione, chi mette da parte uno? La parte più debole, la parte più debole siamo noi, siamo noi perché siamo pochi abitanti, un territorio diversificato, con mille problemi, con tanti presidi, quindi noi abbiamo necessità di istituire la seconda AS, anzi, l'AS Salerno Sud, secondo a nessuno, non uno e due, non siamo due a nessuno, nemmeno uno a nessuno, noi vogliamo l'AS Salerno Sud, da Ebboli a Salerno, se facciamo questo, io faccio l'appello pure ai colleghi, della parte sud della provincia di Salerno, in consiglio regionale, perché la parte nord sono contro, perché giustamente vogliono la reggemonia, perché concentrano tutto là, quelle poche risorse, noi con questa avremmo l'autonomia, l'indipendenza gestionale dell'AS, e potremmo diventare un modello ideale, di sanità giusta ed equa, e di qualità per l'intera regione campana, questa è la scommessa, se vogliamo salvare la sanità pubblica, altrimenti siamo destinati a morire, questa è la verità, quindi farò questa proposta, glielo ho detto già al Presidente Caldoro, non so come andrà a fare, ma questa è una battaglia importante, se vogliamo veramente il bene della sanità, invierò a tutti i sindaci, la richiesta di fare una delibera in consiglio comunale, affinché si istituisca una nuova ASL, l'ASL Salerno Sud, perché solo così possiamo dare sanità ai cittadini, assistenza ai cittadini, è una sanità giusta, e possiamo sopravvivere, perché avere un'altra ASL, significa anche economia, perché senza economia, un territorio muore, questa è la verità. Allora, un ultimissimo sguardo alla città, dunque dicevamo in primo piano la cronaca, Giuseppina esce dal coma e salva, sciocca a mercatello, migliora la donna ferita dal compagno per gelosia, intanto cronaca giudiziaria, pecora lo scanio a giudizio, l'ex ministro chiesto il processo, appunto per l'ex ministro, accusato di finanziamento illecito, ma andiamo subito nella pagina cilento di Anoalburni, finto poliziotto della DIA, truffa moglie scompare, atteggiano Agnese racconta in TV, la sua disavventura, affascinata dalla divisa, in paese prometteva il suo interessamento anche per le assunzioni al Senato. Poi la cronaca, donna travolta da un furgone, oggi i funerali. A Sala Consilina consiglio contrario alle trivellazioni, l'ospedale di Polo l'abbiamo già visto, la sanità verso la paralisi, dunque c'è questo allarme che arriva da Sala Consilina, dall'avvallo di Diano per quanto riguarda la sanità. A Caggiano sprofonda la provinciale 341, altra emergenza legata alla viabilità. Poi tra Camerota e San Giovanni Appiro, abusivismo edilizio, scattano sette denunce. Geoparchi, Anillo Aloia di Vallo della Lucania, coordinatore nazionale. Ma insieme all'onorevole Fortunato, vogliamo chiudere questa segna stampa, commentando questa notizia. A Sala Consilina, l'onorevole Mucciolo, quindi suo collega consigliere regionale, attacca il presidente Caldoro sul tribunale che è stato chiuso. Allora, un ultimissimo commento, poi ci salutiamo. Ah, semplicemente. Gennaro Mucciolo, mi dispiace, è una brava persona, è un anziano, è un anziano della politica, è corresponsabile del disastro della regione campania, negli ultimi, lui è la terza legislatura, però è demagogico, si vede che si avvicina alla campagna regionale futura o politica. Io, che parlasse Donato Pica, avrebbe senso, anche se la responsabilità del governo Letta, il suo riferimento, è del governo del PD, non c'è più Berlusconi che possono trovare la scusa che Berlusconi faceva chiudere il tribunale. Il tribunale è stato chiuso quando il governo è del PD, Letta, Renzi oggi. Però oggi, Gennaro Mucciolo, è veramente stato, perché è uno dei consiglieri che del problema del tribunale non se ne è proprio fregato. Tutta la manifestazione che abbiamo fatto sui territori, a Sala Consilina, siamo stati a Roma, dal Ministero prima, dalla Commissione dopo, era presente Donato Pica, ma assolutamente Gennaro Mucciolo non è stato mai presente. Quindi, secondo lei, perché questo intervento ora? È un intervento per far vedere a quello del Valle Lidiano che lui si è interessato e attacca Caldoro. L'attacca Caldoro è strumentale, perché non solo la Regione Campania ci siamo costituiti per il referendum, poi la Corte Costituzionale l'ha bocciato. Abbiamo fatto il possibile, però la competenza lui dovrebbe sapere due solune cose. O è strumentale, perché è una persona intelligente, cioè non è uno scienziato della politica, però sono cose concettuali che anche chi fa il consigliere comunale sa. La giustizia non è competenza della Regione, è dello Stato, quindi un problema è che se è stato chiuso, l'ha chiuso il Governo, il Governo, è il suo Governo, di centro-sinistra, quindi Caldoro che c'entra? Ovviamente il problema tribunale esiste, io penso va risolto, non è possibile, noi siamo stati deportati, è il primo caso in Italia dove una zona di una regione va ad un'altra regione. Il Golfo di Policastro è una criticità ancora di più, perché Valle Diano, a parte che è assurdo, perché avere più presidi significa più legalità e secondo me sia Lago Negra sia Sala Consolio dovrebbero esistere, perché non ci sono risparmio di costi, anzi ci sarebbe una salvaguardia, un miglior controllo del territorio, ma quelli del Golfo di Policastro come noi siamo veramente penalizzati, non ci sono i mezzi di comunicazione e di trasporto, perché per andare da Policastro alla Lago Negra è una difficoltà, durante il periodo invernale c'è un problema anche di ghiaccio e di neve, non c'è logica, la Corte d'Appello bisogna andare a Potenza, il Tarra Salerno, c'è una confusione legislativa e giudiziare che fa paura, il colpo di mano l'ha fatto Pittella probabilmente politicamente, quindi sempre del PD del centro-sinistra, quindi il Gennaro Mucci dovrebbe chiedere a Letta, a Renze, a Pittella, e così, quelle che lui vota e sostiene, sono loro la causa che hanno voluto questa strategia, faccio un appello, il Golfo di Policastro è al massimo, se dovevamo chiudere un tribunale, allora Valle di Anno andava a Salaconsigli ma noi a Salerno, ma noi il Golfo di Policastro è la cosa più naturale e più logica e dovevamo venire a Valle della Lucane, perché ci sono i mezzi di trasporto, c'è la stazione, c'è la strada in 20 minuti, non è possibile andare alla Lago Negra, noi impieghiamo un'ora con grande difficoltà, uno deve utilizzare la macchia e quindi creare dei servizi, il Valle di Anno è più vicino, ma il Golfo di Policastro è stata veramente una cosa che non ha precedenti e chi l'ha fatta? L'ha fatta, l'ha fatta, il suo governo, quello che lui sostiene, quindi gli consiglia a Gennaro di fare un'altra trovata, di fare il mia colpa per quello che non ha fatto il suo governo che lui sostiene e fare un mia colpa soprattutto per i dieci anni che ha governato insieme a Bassoline e a Valleanda della distruzione della regione campana, di tutti i deb, dalla sanità e i trasporti e così via. Si faccio mia colpa, sia la demagogia non paga, i cittadini non ci cadono anche perché non l'hanno visto mai presente su quel territorio. Su queste parole onorevole ci dobbiamo fermare, è stato davvero un piacere averla ospite nei nostri studi, ci rivedremo sicuramente presto, abbiamo dato degli spunti, ci sono degli argomenti che sicuramente vanno approfonditi, allora grazie all'onorevole Giovanni Fortunato, è un attello ai cittadini bisogna non solo sperare ma essere fiducioso perché sono convinto protagonisti assolutamente a 360 gradi perché solo se tutti quanti lavoriamo insieme ce la possiamo fare e sono convinto che noi italiani ma anche noi del sud di Salerno, occidentani siamo molto tenaci, capaci e possiamo in questo momento di crisi rilanciare e far conoscere di più le nostre capacità del nostro territorio. Allora grazie all'onorevole Fortunato ci fermiamo qui per la rassegna stampa ma tra pochissimo una nuova edizione del TG7 grazie a voi tutti arrivederci grazie questo programma è stato offerto da Infante calzature e pelletterie a Vallo della Lucania in via Angelo Rubino e ad Agropoli in via Pio 1070 Infante calzature grazie a tutti grazie a tutti